Signori, finalmente Samira è arrivata, finalmente Samira è arrivata nel senso che è arrivata su PB e testabile attraverso il practice tool e non si deve effettivamente aspettare fare una partita e poi decidere Oh mio dio è sbroccata da una partita in cui magari stia giocando contro gente scarsa e che in generale non sa giocare contro Samira Vi ricordo prima di partire per l'analisi potete iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e commentare sotto a video di su che cosa ne pensate e condividerlo con i vostri amici se avete voglia e tempo Ma buttiamoci nella mischia, buttiamoci nell'azione con questo campione e allora ci sono un sacco di cose da dire quindi proverò ad andare in ordine con calma e proverò a spiegare tutto quanto Spero di essere chiaro e spero di essere abbastanza sensato Samira, Samira si appoggia a quello che è un sistema di stile simile a quello di Devil May Cry Avete mai giocato a Devil May Cry? Con cateni, abilità diverse, attacchi, cose eccetera eccetera e il tuo combo stile sale Il concetto è uguale e identico, ogni rank di stile, ogni aumento di stile da E fino alla S che sono 6 in totale E, D, C, B, A, S, ottieni movement speed Quindi tu parti con un autoattacco, utilizzi un'abilità, autoattacco, ne ottieni un altro E adesso ogni volta la mia movement speed è aumentata, ogni singola volta che io ho aumentato il mio rank Guardiamolo di nuovo proprio a rallentatore Ottengo un po' di movement speed Poi un altro po' Poi un altro po' Poi un altro po' Un altro po' È veramente tanto movement speed Ma questo qua, ricordiamo, è il massimo bonus della movement speed Quello di 3,5% per grado Che ci può stare Non solo Samira nel momento in cui è corpo a corpo Lei attacca direttamente con la spada Non dovete premere nulla, non dovete fare nulla Lo fa in automatico lei Se sei abbastanza vicino, spara con la spada Se no, spara dalla distanza Appena entri in gittata, spara Appena entri in gittata di spada Utilizzerà la spada E qual è il vantaggio della spada? Che va a fare un pochino di danno in più Danno magico, aggiuntivo Che scala con la vita del bersaglio Cosa significa? Non è che fa danno sulla vita mancata del bersaglio Ma fa danno aumentato più basso è l'avversario Da 30 fino a 60 Questo è il valore di base Poi scala con il 10% di attacco fisico totale Fino a un massimo di 20 Che è più che sensato Non solo nella parte finale della sua passiva E basta Se un avversario Se un alleato immobilizza un avversario Tu riesci Puoi scattare in avanti verso l'avversario Da 1000 di unità Ottieni questo scatto Gli spari Lo knock up per mezzo secondo Tutto qua Semplice, semplice Niente di esageratamente complicato Purtroppo non ho niente che possa far Che possa far applicare in maniera efficace il knock up Però il senso e lo scopo di questa passiva è quello Allora partiamo con calma adesso dalle singole abilità di base Signori Ve le farò vedere con uno skillshot in questo modo Questa è la Q È un proiettile che potete sparare in linea retta È uno skillshot Quindi va colpito Stonk E colpisce da questa distanza Il danno che va a fare Scala con i singoli livelli di abilità Da 0, 5, 10, 15, 20 Quindi il danno bonus è di 20 E applica la totalità dell'attacco fisico Quindi più attacco fisico hai E più danno vai a fare con questa abilità Il cooldown scende da 6 a 5, 4, 3, 2 secondi Non solo I colpi possono rittare Quindi scala con il critico molto bene questo campione Per il 25% di danno bonus E applicano la lifesteal Se è castato durante la wild rush che è la sua E Il colpo è totalmente diverso Quindi hai il colpo da gittata Hai il colpo con la spada E poi hai il colpo applicato durante lo scatto Che fa danno su tutta la riga Adesso carica da tutta la passiva Aspettiamo un attimo Questo è il tuo metodo principale Sia per farmare dalla distanza Sia per arassare Sia per concatenare la tua combo Per arrivare al rank massimo di stile Molto carino Lo trovo intrigante come meccanica Più che altro perché Ha due secondi cooldown poi E quindi puoi concatenarlo all'interno del fight In maniera anche efficace Visto che l'animazione è molto veloce E come dicevo Il tuo metodo in fase di corsia È il tuo metodo principale per farmare Da una distanza sicura Quando non vuoi esporti Durante il fight È il tuo modo per riuscire O ad applicare tanto danno ad area Oppure per poter continuare Ad aumentare il tuo rank stile In maniera semplice ma efficace Perché lo concateni Lo alterni agli autoattacchi E di conseguenza il tuo rank stile aumenta Vi ricordo Per aumentare il rank stile Non basta semplicemente autoattaccare O usare un'abilità raffica Dovete alternare autoattacchi O abilità tra di loro Quindi se ad esempio io faccio così Io ho concatenato due abilità diverse E mi ho aumentato di due rank Il senso è quello Devi continuare a concatenare cose alternative tra di loro Giusto per essere sicuro Che sia chiara questa cosa La W È la cosa che tutti stanno flammando un casino Perché dicono Oh mio dio è sbroccatissimo La W in pratica cosa fa Ha un cooldown di 30 28 26 24 22 secondi Il danno che applica è molto scarso È 20 35 50 65 80 Ma è normale Perché una spell difensiva Non deve fare danno principalmente E cosa fa Va a bloccare i proiettili Ora tutti diranno Oh mio dio La posta per bloccare un proiettili da torre No Non può bloccare i colpi di torre Come potete vedere Non li blocca Non potete fare tower dive Chiunque vi abbia detto Eh ma io l'ho visto Crede anche alla fata turchina Probabilmente quella persona No No Regà No Non blocca i colpi di torre Non li blocca Fine La cosa carina anche della W È che puoi anche fare così Cioè tu durante lo scatto Durante l'animazione della W Puoi attivarla E scattare attraverso una persona È fighissimo Perché a questo modo Puoi reagire in maniera offensiva Se tu vuoi Dopo che tu hai tolto Magari un controllo pesante in arrivo Esempio Arriva la carta gialla Di Twisted Fate E poi decidi di scattare in avanti Perché ha perso la sua minaccia principale O magari vuoi salvare un alleato Perché puoi scattare su un alleato Con la E Ma quello ce l'arriviamo dopo L'idea è molto carina La W Ha uno scopo principalmente difensivo Ovviamente ti permette Di concatenare meglio La combo stile E che ci può stare Niente di malvagio Non è anche così OP Perché il cooldown È veramente veramente alto Chiaro Prenderai cooldown ad action Attraverso la build È tutto Però Non siamo drammatici Su via chat Chat sì Perché siamo su Twitch E non su Youtube E Wild Rush Anche questo spell Molto interessante È quella che ti dà mobilità Puoi utilizzare la E Sia su un avversario Che su un alleato E prima che qualcuno Mi dia del matto Non è uno scherzo Puoi utilizzarla Puoi utilizzarla Attraverso un alleato Molto semplice Ora Riesettiamoli un attimo Perché non mi piace Avere quell'alleato In mezzo alle palle Cosa succede Quando attivi la E La E va a applicare danno Che è danno magico Scala veramente poco Con l'attacco fisico Quindi principalmente Il tuo focus È sfruttarlo Per quello che è il bonus La velocità d'attacco Che sale per livello Tra il 35-40-45-50% Di attack speed Il cooldown è anche Discretamente alto Ma Quando tu uccidi Un avversario Il cooldown si resetta Del tutto Lo scopo è poter entrare E uscire dal fight In maniera efficace Senza che tu vada A perdere tempo e risorse Per sfruttarlo Al massimo possibile Poi come abbiamo fatto notare Prima Se io vado ad attivare la Q Allora posso concatenarlo Se vado ad attivare La W Posso concatenarlo E Adesso vi farò vedere Una cosa che renderà Molti di voi tristi Perché siamo arrivati Alla Suprema Allora La Suprema Può essere solo attivata Se arrivi a ranchesse Può essere bloccata Dai controlli pesanti Quindi non pensate Che si possa effettivamente Applicare in maniera semplice E poi dici Vabbè Va Parte E non la fermi più Quindi puoi bleccarla Con i controlli pesanti Tipo il root Lo stordimento I knock up Eccetera 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 Va Il danno Il modo in cui funziona E c'è un danno Base dell'abilità E scala Con il 60% Di attacco fisico Che hai Quindi più attacco fisico hai E più danni va a fare Ogni singolo colpo Ogni colpo Applica Lifesteal E ogni colpo può crittare Prima che qualcuno urli all'OP Rito sottolineo Può essere bloccato Dai silenziamenti Può essere bloccato Dai knock up I controlli pesanti in generale E può essere attivato Solo quando arrivi a ranchesse Per arrivare a ranchesse Comunque Devi esporti anche In maniera abbastanza pesante Ma Allora Attiviamolo proprio Proprio Questo è il modo in cui appare Voi adesso vedete Un sacco di danno Ma Va a applicare 10 colpi in totale Durante questi secondi E Il punto è questo Meno nemici ci sono attorno a te E più è facile uccidere gli avversari Cosa significa? Se ci sono dei minion attorno Può colpire anche i minion Perché definisce Colpisce tutti i nemici Che lo circondano Per i successivi due secondi E colpisce 10 volte in totale Quindi sono 10 proiettili Che vanno ad applicare Il danno base D'abilità E via Questo è lo scopo principale E In un team fight Può essere Veramente forte Perché uno guarda e dice Ok può lanciare la supreme Durante un fight E distrugge Fa veramente disastri Sì assolutamente Però La cosa che io trovo Anche più insane Che puoi scattare con la E Questa è la cosa che io trovo Più preoccupante Ed è uno dei motivi Per cui penso che A basso elo Riuscirà ad avere Molto più successo A confronto con Con l'alto elo Perché Una volta che parte Continua semplicemente A scattare Quindi E quindi Nel momento in cui Poi finisce la R Tu puoi caricare subito Di nuovo la cosa E ridurre totalmente Il cooldown E uno dice Vabbè la pomai Soltanto perché Adesso hai tolto Tutti i cooldown No 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 Adesso lancio la suprema Ci mette un po' A tormarmi il resto del kit E poi lancio di nuovo La suprema Easy peasy Come potete vedere I colpi vengono distribuiti In maniera omogenea Tra tutti i bersagli Che sono presenti In terra e l'area Questo ricordo Include anche i minion Non è malvagio come campione È molto forte È uno di quelli classici campioni Che appena prende il controllo E la partita Prende e fa disastri Proprio fa disastri Non è che Non c'è seo Ma che regge Fa veramente un sacco Di disastri Proprio Ti distrugge un match Da sola Se la lasci fare Come vuole lei E non è una cosa Che dovresti fare Non dovresti mai lasciarla fare Come vuole lei Penso che Quasi sicuramente Allora Bloodthirster è quasi sicuro Potrebbe anche andare Di danza della morte Una build del genere Dovrebbe essere abbastanza normale Invece che la Bloodthirster Potresti andare di danza della morte Giusto per mitigare Il danno in entrata E non essere barstato brutalmente Quindi Andare a questo modo Come build Con l'ideale Che prendi l'essence river In early Per avere cooldown ad action E ricordo Lei non ha sustain Non ha sustain In nado Questi sono bersagli A zero armatura Quindi è anche difficile Da giudicare In maniera efficace Dai Fai il knock Oh Oh Eccolo Avete visto l'animazione Che l'hanno capato Ancora di più Il senso è quello Il campione è anche divertente Cioè sia chiaro Non mi si venga a dire che Ho detto che sia noioso È che Penso Onestamente Che Non Non sia Allora Sarà difficile Da gestire all'inizio Su quello Sono assolutamente D'accordo Non dico Sia debole Penso Sostamente Che sarà Uno di quei campioni Che è super frustrante All'inizio E più si impara A gestirla E più diventa Semplice Da gestire Cioè proprio Semplice Vedete che pallosa Che è Infatti Per quello Ad alto elo Secondo me Non Non andrà a fare Così tanti disastri A basso elo Si Visto Ho riapplicato Il knock up Ah ma aumentiamo La resistenza È giusto per Renderlo un pochino Più intrigante Per capire Ad esempio Questo tizio Quanta resistenza Ha esso 54 A colpa del baron Mannaggia il demonio Stupido baron Non No ecco 100 dmr Guardalo qua Guarda quanti hp Che sta per prendere Oh No Ero troppo lontano Ero troppo lontano Sta buono baron Allora Devo mantenere Lo stile alto Perché Adesso Vedete questo Ci mette un po' Di più a morire Questa è però Una full build Con trottizio Con 100 di armatura Un tank avrà 3000 hp Quindi Non è neanche Paragonabile Non lo so Non Non mi preoccupo Troppo Per ora Però so già Che qualcuno Farà disastri In bot lane E che la interà Schifo E quindi Finirà fidata A prescindere Da tutto Concetto finale Sì Non è debole Penso che sia Discretamente forte Soprattutto all'inizio Sarà All'inizio sarà Sbroccata Perché la gente Lo saprà giocarci contro Ma che una volta Che si impara a gestirla Non è così complicata Da affermare Più che altro Perché puoi aggredirla In fase di corsia Non ha sustain Non ha modo di rigenerarsi Per questo Ho messo il piede lesso E Questo è quanto Signori Penso che sia il momento Di salutarci Che sennò continuiamo qua A guardare A girarci i pollici Signori Noi ci vediamo Al prossimo video